Se fuori dal campo tengono banco le sentenze di ieri di Calciopoli, con l'ex Patron Gazzoni che non nasconde la propria soddisfazione, dentro il rettangolo verde tiene ancora banco il K.O. con il Parma. Si analizzano i motivi della sconfitta e si accendono i riflettori anche sulla situazione di Divaio. Corriere dello Sport Stadio Bologna deve ritrovare Divaio. Marco Divaio si è smarrito e il Bologna dovrà ritrovarlo entro tempi brevi se vorrà salvarsi. Nell'ultima intervista rilasciata aveva fatto sapere. No, non è solo una vostra sensazione che abbia giocato meglio quando nell'ultimo spezzone di partita ho giocato da solo in attacco, lo sapete come sono fatto, non è un segreto che il fatto di giocare come prima punta esalta maggiormente le mie caratteristiche. Al di là di ciò, per il bene del Bologna è importante continuare a giocare con i tre uomini di attacco. Quelle erano frasi da leggere tra le righe e anche le successive includevano un messaggio chiaro. Devo essere io a entrare meglio nella manovra e a calarmi nella nuova realtà, devo studiare il movimento giusto che può mettere in difficoltà gli avversari o anche determinare il movimento di un compagno. Oltre all'arbitro, anche Colomba ha sbagliato. Al di là della sua scelta di confermare i tre uomini di attacco contro una squadra in salute e molto organizzata come il Parma, è anche discutibile l'impiego di Zenoni come Mezzala, quando il giovane Casarini aveva fatto bene sia contro la Lazio che contro l'Udinese. Dopo l'espulsione di Britos e visto anche che Amoruso aveva salvato il pari del Bologna sbagliando il rigore, sei chiamato da subito a rafforzare la squadra dove soffre di più, e cioè sui lati in mezzo, richiamando due dei tre attaccanti per inserire due esterni di ruolo e bloccare il Bologna sul 4-4-1. Invece Colomba ha aspettato sette minuti prima di intervenire e quando il Parma ha sostituito Zemaili con Paloschi e Cocchi ha tolto due punte, è vero, ma per buttarne la mischia, oltre a Baliani, uno sbaldo che non sai mai quello che può darti, modellando il Bologna sul 4-3-2. Lasciando di fatto ancora scoperti i lati del centrocampo. Mistero Santos, ma quando gioca? Mancando Moras e Portanova, Colomba ha deciso di impiegare l'Anna centrale accanto a Britos. Non solo. Una volta espulso il giovane difensore uruguaiano, pur avendo a disposizione in panchina Santos, l'allenatore ha preferito percorrere un'altra strada, quella di dirottare Zenoni esterno-destro della difesa e raggi centrale accanto all'Anna. Colomba. Non è una questione di una mancanza di fiducia nei suoi confronti, il fatto è che sta maturando piano piano e vedrete che verrà anche il suo momento, ha dichiarato il tecnico a fine partita. Dopo aver ricordato che i tifosi dell'Atletico Paranaense scesero in piazza contro la società che aveva mollato al Bologna e il giocatore più importante della squadra e che Santos nelle prime undici partite del campionato aveva segnato anche quattro gol, Ci domandiamo. È possibile che uno che da anni fa il titolare nel campionato brasiliano non sia pronto per giocare una ventina di minuti nella quint'ultima squadra del campionato italiano? Mingazzini si mette fretta. Di certo, con le temperature rigide di questi giorni e alla vigilia di una sosta importante anche dal punto di vista atletico, non si correrà alcun rischio, ma l'impressione è che per sabato Mingazzini possa essere recuperato al 100%. Non ce la farà invece Moras. Lo stiramento al bicipite femorale rimediato contro l'Udinese costringe ancora il greco a terapie specifiche e considerando i tanti acciacchi che hanno limitato le presenze del difensore in questa prima parte di stagione, lo staff medico vuole procedere con un recupero graduale e sicuro. Il resto del Carlino. Gazzoni. L'associazione c'era. Ora manca solo il nome del promotore. Gazzoni, la condanna di Giraudo, Lanese e Pieri è una sua vittoria? Volevo captare la volontà di andare fino in fondo, di fare giustizia. Il segnale che è arrivato è forte e chiaro. La sentenza certifica la frode sportiva e apre una finestra sul risorcimento. Siamo ancora lontani. Certo, ma più vicini di prima. Ai condannati è stato imposto solo il pagamento delle spese processuali. In sede civile toccherà alle parti lese far valere i loro diritti. Lei è favorevole alla tesi più semplice. Che moggi fosse la mente, giusto? Laddove c'è frode, di solito c'è chi l'ha ideata. A me importa che siano ricostruiti i fatti con esattezza e che vengano riconosciuti danni morali e materiali. Non gioisco per nessuna condanna, neppure per quella di Giraudo e dei suoi compagni di merende. Spero che nessuno vada in galera ma noto con piacere che siamo all'inizio di un'operazione di pulizia definitiva. La condanna dell'ex arbitro Dondarini rinforza la sua posizione processuale? E come? E indebolisce quella della Fiorentina. Dondarini è stato condannato per Chievo e Fiorentina, 1 a 2, con clamoroso rigore negato al Chievo nel finale. Un punto in meno alla Fiorentina e il Bologna si sarebbe salvato. Qualcuno sostiene che il Bologna si sarebbe dovuto salvare con le proprie forze. Avrebbe potuto, non dovuto. E anche se fosse? A quota 42, senza le vittorie pilotate le altre non ci sarebbero mai arrivate. Gazzoni, che cos'era esattamente Calciopoli? Milan e Inter avevano il mecenate che pareggiava tutti i conti. La Juve no, la Juve doveva vincere e aveva i bilanci in ordine. Infatti vinceva, valorizzava i suoi giocatori e li cedeva effettuando grandi plusvalenze, vedi Zidane al Real Madrid. La Repubblica. Il Bologna e Calciopoli. Tre anni a Giraudo, un punto a Francesca. La sentenza di Napoli indebolisce i Mugiani nella faida di Casteldebole. Di qua la figlia è di Gibaraldi, di là il geometra è Big Luciano. Siamo alla resa dei conti. Le altre condanne. Due anni e quattro mesi all'arbitro Pieri, diresse il Bologna. Juve deciso da Neidved. E adesso Gazzoni vuole i danni. Bel segnale, non ci contavo più. L'ex patron. Non auguro la galera, però giustizia va fatta. In carcere di Vaio, ma è tutta beneficenza. Ieri il capitano, con altri giocatori e dirigenti, in visita ai detenuti per premiare i vincitori del torneo di calcio. Corriere della sera di Bologna. Bologna, che sprechi! Quanti punti buttati dai rosso-blu. Da 0 a 1 a 2 a 1 con Roma, Napoli e Parma. Mancano buoni risultati in trasferta. In casa Colomba marcia ritmo UEFA. A Casteldebole. Paura neve. Il mini ritiro alla fine salta. L'informazione è il domani. Il primo acquisto può essere sabio. Sondaggio pure per un possibile scambio tra Mudingai e il terzino Viola Pasquale. Si cerca anche un raggista. A sé con la Fiorentina, l'ala sinistra in procinto di arrivare in prestito secco. Prima e pesanti sentenze per Calciopoli. Tre anni di reclusione per Giraudo, due per Pieri. Provata la frode sportiva in Bologna e Juve. Gazzoni. C'è volontà di fare giustizia, esisteva un sistema moggi. Il 27 dicembre si saprà se a Pia parteciperà alla Coppa d'Africa. Quel giorno le convocazioni, il mediano vuole esserci. Grazie. 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 Grazie.